Per commentare questa sconfitta che brucia, che brucia tanto, che probabilmente costringe il Pescara a dire addio al terzo posto, i primi dieci minuti a me erano piaciuti. La combinazione d'Ursi-Zappella per Ferrari, Pescara si è divorato il gol, poi però meglio la Lucchese, più organizzata. Non è proprio così, la partita è stata equilibrata, l'abbiamo fatto un buon primo tempo, ma anche nel secondo tempo abbiamo cominciato bene. Abbiamo concesso poco a una squadra che non dà punti di riferimento davanti, loro hanno fatto due gol tirando quattro volte dai 25-28 metri, poi l'inerzia della gara è cambiata perché in un minuto e mezzo abbiamo preso due gol evitabilissimi perché non erano sicuramente conclusioni irresistibili. Ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo accorciato un po' le distanze, abbiamo messo pressione, abbiamo continuato ad attaccare, però non siamo riusciti anche perché poi vabbè questo è normale. A un certo punto si gioca veramente poco. Questo però credo da parte della Lucchese sia normale, quello che volevo sottolineare era che quando ho rivisto oggi con i giocatori tra le linee un po' i difetti del vecchio Pescara, cioè tanti spazi tra la linea difensiva e il centrocampo e poi dopo il gol di Ferrari io mi aspettavo un po' più organizzazione offensiva, però il Pescara non si è mai fatto vedere. Il gioco a quel punto è diventato spezzettato perché l'inerzia della gara è cambiata, abbiamo messo i due davanti, Ferrari e Cernicoio, non sono riusciti a trovare i varchi, ma ci abbiamo provato in tutti i modi, ma neanche la Lucchese che oggi ha vinto la partita e ha fatto due gol, non è che ha costruito chissà quali occasioni, le partite sono così, a volte basta poco, ma secondo me abbiamo fatto una buona gara, non abbiamo giocato solo dieci minuti, nonostante eravamo qualcuno non in perfette condizioni, vedi Veroli, vedi Clemenza, non stavano benissimo, ho scelto Rauti che poi anche lui ha dovuto chiedere il cambio alla primo tempo per un'infiammazione della terghiera, praticamente non respirava, era sempre in debito, però la partita è cambiata in un minuto e mezzo con due gol, due conclusioni evitabilissime ed è chiaro che loro l'hanno vinta. Le chiedo qualcosa proprio anche sui cambi, perché una fotografia che ho della partita quando ha inserito Zita, magari delle monache poteva provare l'uno contro uno che mancava, però Zita ha sbagliato due o tre palloni subito banali e lei ha avuto dei gesti eloquenti in panchina, perché questo cambio? Questi eloquenti perché lui non doveva assumere quella posizione, in quel momento della partita lui e Clemenza dovevano mantenersi larghi e dovevamo attaccare l'aria di rigore, anche perché avevamo Ferrari e Ciondico e mette i palloni dentro, lui pronti via e è andato a fare delle cose che non doveva fare, ma vabbè. Perché delle monache no? Perché vi si doveva recuperare? Perché delle monache, ma delle monache, ma si possono fare tante cose, si fanno delle scelte, perché mettere dentro un ragazzo in quel momento in cui le condizioni di partita non sono semplicissime? Si fanno delle scelte, non è che attraverso le scelte si vincono, si perdono le partite. In quel momento avevamo i due davanti, grandi e grossi, dovevamo mettere più palloni, ma l'abbiamo anche fatto. A volte li abbiamo dosati male, questi traversoni, attraverso degli inserimenti laterali. Tante altre volte non siamo riusciti a chiudere in area di rigore, ma ci abbiamo provato in tutti i modi. L'ultima da parte mia, prima delle domande da studio, Gerardi dal primo minuto per i Ianes, qualche problema di Ianes o scelta tecnica? Anche l'anes, un piccolo fastidio l'altro giorno in allenamento, per cui lo abbiamo tenuto precauzionalmente a riposo e questo è il motivo. Le do l'auricolare, così può ascoltarvi da studio Massimo, il tecnico, vi ascolta ora. Sì, buon poveriggio, mister, le volevo chiedere proprio brevemente cosa, secondo lei, non ha funzionato nella partita di oggi? Ma complessivamente, Massimo, abbiamo giocato anche una buona partita aggredendo, recuperando palla. Non è che abbiamo giocato solo dieci minuti il primo tempo, complessivamente abbiamo fatto meglio noi, di loro. Poi non siamo riusciti a trovare i parchi in area di rigore, oppure abbiamo sbagliato qualche situazione importante, qualche occasione importante che avevamo costruito. Il secondo tempo, più o meno, siamo partiti nello stesso identico modo, anche se abbiamo messo dentro un giocatore come il Sernicoi, che per caratteristiche è diverso da Rauti, ma Rauti non stava bene, non stava neanche facendo bene, ho detto prima, non respirava. Poi l'inizio della gara, che era equilibrata, dove noi davamo sempre l'impressione di essere pericolosi, ma non è che rischiavamo chissà che cosa. È cambiato in un minuto e mezzo, perché abbiamo preso due golle, che di solito non si prendono normalmente. Ultima domanda? No, ecco, così, proprio a posteriori, so che è una domanda che può sembrare un po' particolare. Se la potesse rigiocare, rifarebbe le stesse scelte? Ma le scelte, ma chi attraverso le scelte si vincono, si perdono le partite in partenza. Ho detto prima, Veroli non stava benissimo, Clemenza non stava benissimo, il Lanes non stava benissimo, poi all'interno di questo gruppo sono giocatori più o meno sullo stesso livello, quindi le scelte erano queste, quelle da fare oggi. Io riprendo l'auricolare e faccio l'ultima al tecnico Auteri, se come Matteassi l'ha blindato in settimana anche il Presidente Sebastiani, se lei si sente un po' in discussione o se fa parte del gioco. Ma voi ritornate con queste domande che non dovete fare a me. Chiedo se è lei. Ah no, io discuto sempre con me stesso, di sicuro una scompitta come quella di oggi non mi scivola addosso, perché viviamo di calcio, perché amiamo questo lavoro, perché ci mettiamo passione, competenza, di sicuro non mi scivola addosso. E perché francamente sul piano personale, da sempre io sono così, quando perdo o perdono le mie squadre, non è che vivo agiatamente, rimangono delle ferite dentro, questo basta e avanza.